buonasera eccoci qua di nuovo con un nuovo progetto oggi vi voglio far vedere come realizzo un utensile per il tornio tutto nasce dall'idea del fatto che sono pieno di placchette di ogni genere è ovvio che queste placchette sono riuscita a rimediarle e voglio utilizzarle in modo diverso sono riuscito a trovare un quadrello 16x16 rettificato con questo voglio provare a realizzare questo utensile sfruttando queste placchette triangolari vediamo adesso come procediamo è ovvio che le porta placchette questi utensili che normalmente si comprano sono in metallo duro a me sinceramente per quello che servono per quello che devono fare sostanzialmente sostenere la placchetta mi è sufficiente tranquillamente questo quadrello che poi eventualmente si potrebbe pure temprare con la fuoco o con la forgia insomma qualsiasi modo si potrebbe oppure temprare però sinceramente non mi interessa adesso vediamo come procedere con questo tipo di lavoro a dopo e poi vediamo come procedere con questo tipo di lavoro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.